Quest'uomo si è svegliato con un occhio nero, poi ha trovato un messaggio di sua moglie per scoprire la straziante verità. Io invece mi sono risvegliato stamattina con lo stesso problema di un mese fa, con problemi sull'account, quindi quando proverei a seguirmi, ti uscirà l'avviso Sei sicuro di poter seguire questo account? Non va bene, ma non ho fatto niente io! Ryan è un uomo sposato, una sera uscito con un amico per festeggiare. Si stavano divertendo un botto fino a quando Ryan non ha cominciato a bere un po' troppo. La moglie era a casa con suo figlio e non aveva idea di quello che stesse succedendo. Ryan nel frattempo sbandava verso il bagno col suo amico, fino a quando non è svenuto e poi si è risvegliato direttamente sul pavimento della cucina di casa sua. Non ricordava cosa fosse successo, fino a quando poi in bagno non scopre di avere anche un occhio nero. Sua moglie non era in casa ma le aveva lasciato un biglietto. Leggendo quella lettera rimase scioccato. Il suo amico lo aveva riaccompagnato a casa perché era troppo ubriaco, quando sua moglie ha provato a spogliarlo lui ha rilato No, no, sono sposato! Dimostrando di essere un uomo fedele e sua moglie era orgogliosa di lui. Un bel like per il nostro soldato Ryan, anche questa volta ti è andata bene. Grazie!